Quando parti al cancelletto, pip, senti il rumore, parti, da lì non pensi più niente, cioè pensi a quello che stai facendo. Velocità, adrenalina, tecnica. Due o tre minuti prima della gara sono lì, sono concentrata. Il torciato di Vallisola è cattivo. Ci sono dei sassi incazzati perché sono in mezzo proprio lì. Si snoda appunto questo torciato come appunto un serpente, il black snake. È il vero torciato da DH con la velocità tra i sassi, le radici, la pendenza. Chi ha veramente il coraggio, la tecnica e la sicurezza può buttarsi gioco alla velocità. Grazie per la visione.